Che per il Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi la città di Teramo e l'intera provincia rappresentassero l'ultima periferia dell'impero ce ne eravamo già accorti in precedenza. Sia per l'evidente disinteresse ma anche per le infelici battute, perfino sulla Teramo Calcio. Ora, con la chiusura della Prefettura, attraverso le abili forbici dei Ministri Alfano e Madia, non residua più alcun dubbio. Stesso destino maro per la Prefettura di Chieti accorpata a quella di Pescara. Lo affermano il Vice Presidente del Consiglio regionale Paolo Gatti, Presidente Emerito della Regione Abruzzo Gianni Chiodi e il Capogruppo d'Abruzzo Futuro Mauro Di Dalmazio sulla scelta del Governo di accorpare la Prefettura di Teramo a quella dell'Aquila. L'Abruzzo, continuo e tre esponenti del centro-destra, sta diventando il luogo geografico di taglie e di maldestri tentativi di risparmio che si concretizzano attraverso un vero e proprio abbandono del territorio da parte del Governo di centro-sinistra. Di fronte ad una riduzione del 50% dei presidi di legalità e sicurezza nella nostra Regione e nel reiterato maltrattamento della provincia di Teramo in particolare, ma anche questa volta di quella di Chieti, non ci limiteremo a chiedere ai parlamentari abruzzesi che sostengono il Governo di fare una scelta tra la loro appartenenza partitica e i loro doveri verso l'Abruzzo, ma proporremo in Consiglio un atto formale che impegni il Presidente Luciano D'Alfonso e il Governo regionale ad assumere tutte le iniziative utili per evitare la ulteriore desertificazione della nostra Regione nei servizi fondamentali. Grazie.